Sensibilizzare i cittadini sui fattori di rischio legati ai tumori e promuovere stili di vita sani per ridurre le possibilità di sviluppare la malattia. È l'obiettivo della nuova campagna di prevenzione promossa dall'ASD Brindisi nell'ambito del Medfood Anti-Cancer Program e inserita nel piano regionale della prevenzione 2021-2025. La campagna, coordinata dal Servizio Igiene e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione, intende sottolineare quanto uno stile di vita corretto possa influire sulla salute generale e sulla prevenzione oncologica. Attraverso un video informativo i cittadini sono invitati a riflettere sull'importanza delle abitudini quotidiane. Azioni che devono essere caratterizzate da efficienza, efficacia, devono essere azioni appropriate e azioni basate sull'evidenza, quindi evidence-based. E quindi queste azioni che devono essere effettuate nel corso del tempo sono azioni che devono tenere conto di alcuni indicatori, devono essere azioni monitorate nel tempo per il raggiungimento di quelli che noi definiamo valori attesi. All'interno di questo video noi diamo una serie di dati. Intanto mettiamo in evidenza quanto sia importante per i cittadini conoscere quelli che sono i fattori di rischio. Mi riferisco per esempio a una corretta alimentazione, mi riferisco a una buona attività motoria, a quanto sia importante condurre un particolare tipo di alimentazione in chi fa chemioterapia, quanto sia importante l'allattamento al seno. Quindi sono tante indicazioni che noi diamo attraverso questo video e quindi la speranza nostra è che ovviamente questo programma che noi stiamo realizzando sia visto da gran parte della popolazione. La campagna di prevenzione attraverso l'utilizzo dei social vuole coinvolgere l'intera comunità, creando una rete di intervento capace di promuovere comportamenti virtuosi a tutti i livelli della società. Tra le informazioni chiare che abbiamo voluto donare ai cittadini è il mantenimento, ad esempio, di un corretto peso corporeo. Quindi questo noi lo possiamo tenere sotto controllo attraverso un calcoletto molto semplice che è l'indice di massa corporea, facendo un rapporto tra il peso e il quadrato dell'altezza. Il mantenimento del peso ottimale, quindi questi indici di massa corporea, ci consentono di fare, di avviare tutta un'attività promozionale che noi tra l'altro abbiamo già in maniera molto forte all'interno delle scuole, lo facciamo per contrastare l'eccesso ponderale, quindi il sovrappeso, l'obesità, situazioni che ovviamente possono predisporre, non in maniera immediata ma a distanza di molti anni, a situazioni tipo il diabete, in genere a tutte quelle che noi definiamo malattie croniche non trasmissibili, tra le quali rientra anche il tumore. Fondamentale nella prevenzione anche la modalità dell'alimentazione, che deve prediligere ad esempio l'assunzione di proteine vegetali in sostituzione di quegli animali, che tuttavia non vanno demonizzate. Noi consigliamo settimanalmente un'assunzione di proteine animali tre volte alla settimana, una volta di carne rossa e due volte di carne bianca, anche il pesce. Il resto invece con le proteine vegetali. I legumi, per esempio, l'associare un piatto di pasta con un legume rende un piatto completo, perché diciamo le proteine esistenti sia nell'uno che nell'altro vanno a compensarsi, dove c'è un'assenza di lisina o di metionina da una parte e dall'altra, poi si trovano stando insieme e quindi diventa un piatto completo. Frutta e verdura. Frutta e verdura deve essere assunta almeno per cinque volte alla settimana, perché assumere frutta e verdura, all'interno troviamo dei micronutrienti importanti, troviamo delle vitamine, troviamo dei carotenoidi, dei flavonoidi, che sono importanti per la nostra salute. E questo sicuramente determina, come dire, un allontanamento di quelle che noi chiamiamo malattie croniche non trasmissibili e quindi anche il tumore. Quindi spieghiamo all'interno di questa nostra diapositiva qual è il meccanismo di partenza, quindi di una trasformazione precancerosa di una cellula, fino ad arrivare alla trasformazione cancerosa e alla diffusione attraverso il flusso sanguigno, attraverso il flusso linfatico, anche in altri tessuti, quando noi parliamo di diffusione metastatica. Quindi il fatto di sottolineare quali siano i fattori di rischio per noi è importante, perché intanto si educano i cittadini a una corretta informazione, cerchiamo anche di prevenire quella che può essere una disinformazione che molte volte c'è. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza nel mondo scolastico tramite incontri con i docenti, che dovranno poi trasmettere le informazioni agli alunni, e con le commissioni mensa dei vari comuni in cui partecipano anche le famiglie. Ma la campagna di sensibilizzazione è finalizzata anche a contrastare l'influenza dei social sui cibi altamente processati o cibo spazzatura e dei distributori automatici presenti nelle scuole e negli uffici pubblici. Nel video informativo sono stati evidenziati anche dati importanti rispetto all'incidenza dei tumori in provincia di Brindisi, estrapolati dal registro tumori 2022 relativo agli ultimi 5 anni, e che evidenziano un calo di circa il 10% negli uomini e dell'8% nelle donne, mentre la percentuale di guarigione è aumentata al 30-40%. Il nostro traguardo, il nostro obiettivo è cercare sempre più di ridurre questi dati, tenuto conto di ciò che l'ASL fa, di ciò che fa il servizio di igiene pubblica con l'attivazione degli screening. Screening oncologici come la mammografia, il pap test o la coloscopia, che possono migliorare la possibilità di una diagnosi precoce e quindi di successo terapeutico. È importante anche in questo caso, e lo diciamo nel nostro video, fare tutte queste attività di prevenzione, perché questo ci consente sicuramente di abbattere fortemente il rischio.